Il PSR, lo dice la parola stessa, è il programma di sviluppo rurale. È un programma che la Comunità Europea ha organizzato insieme alle regioni d'Italia per programmare in realtà delle misure a sostegno dello sviluppo delle aree rurali interne. Ho realizzato vari interventi. Tramite la misura 122 ho realizzato l'intervento dell'acquisto di macchine agricole per la lavorazione del bosco, per dare innovazione alle lavorazioni che vengono effettuati nel bosco. Tramite sempre la misura 122 ho sfruttato un finanziamento per la costruzione di un capannone per lo stoccaggio del legname e il finanziamento più importante è quello sviluppato nella sostituzione delle conifere in latifoglie nel bosco stesso per eliminare tutte le conifere invecchiate e sostituirla con vari tipi di piante come la quercia, l'acero, il cerro. Ho ricevuto come contributo in totale intorno ai 300.000 euro. Ho ristrutturato una chiesetta di proprietà che si trova nell'azienda stessa. Senza il PSR non avrei mai realizzato questi interventi con la stessa velocità. Le principali difficoltà che ho incontrato facendo queste misure sono state per lo più burocratiche. I benefici ci sono stati per la mia azienda e i benefici sono stati di carattere ambientale tramite l'acquisto delle macchine che sono più innovative, quindi con meno emissione di anidride carbonica. C'è stata un'innovazione ambientale e paesaggistica sicuramente. Il messaggio che do ai giovani che vogliono fare il mestiere agricolo è quello di fare agricoltura, perché è bello fare agricoltura.